Vengenetto Trail, terza edizione, edizione 2022 per questa grande giornata all'insegna del Trail Run. Prima edizione per quanto riguarda la distanza di Ultra Rail, saranno 65 km a 3100 metri di livello, il percorso è quello spettacolare che gli amici della Proloco hanno tracciato, insieme a tutti gli amici di Sota Training, insieme a tutti gli amici, coloro che sono intervenuti per questa grande terza edizione.